Più forti della crisi demografica, a cui rispondono con una proliferazione fuori controllo, i partecipanti e le partecipanti a tour alcolici o addie al celibato e al nobilato crescono a dismisura. La calata a Venezia avviene nei fine settimana e dalla stazione si disperde lungo le principali direttive cittadine, percorse spesso tra urle e schiamazzi crescenti in intensità a seconda del numero di consumazioni in corpo. Quindi noi alla fine ci troviamo una gran quantità di persone che vengono in città in modo anche abbastanza ignorante, vestiti o con costumi volgari e poi la cosa brutta è che chiaramente vanno a fare i bisogni o vomitano addirittura in calle sulle porte delle persone. Allora io non ho mai sentito di multe date a questi tour alcolici. Per altre cose a Venezia le regole ci sono e come e se sgarri i vigili arrivano subito, però ci sono situazioni dove non arrivano mai. Cecilia Tonon, consigliere comunale di Venezia e tu, appunto, ha il dito sul radicalizzarsi di un tipo di visita di cui la città e persino molti suoi esercenti farebbero volentieri a meno. Tra milioni di trolley e di comitive in gita col pranzo al sacco, a Venezia c'è anche chi viene per ubriacarsi e fare confusione, in un clima da tutto e concesso che raramente si vede in altre città. È diventata una terra franca e già in passato abbiamo visto che è scelta per fare ogni tipo di esibizione, tuffi, stelline sui monumenti, perché poi c'è un eco internazionale di queste cose. Ci dovrebbe essere più attenzione per il livello della vita. Invece queste grandissime quantità di turisti che vengono giornalmente o per poche ore ad utilizzare la città senza lasciare niente in città perché i giornalieri non lasciano nulla, se non magari quello che consumano nei bar che a volte non sono nemmeno gestiti da veneziani, ecco questo abbassa moltissimo il livello di vita.